Rodolfo Giorgetti a cui diamo il bentrovato ai microfoni di Controradio. Grazie, bentrovati a voi, buonasera a tutti. Allora Giorgetti, purtroppo partiamo da ciò che è successo in settimana, abbiamo letto anche le sue parole su Facebook di grande commozione. Qual è il ricordo che ha con sé di Ingersson in campo e come amico? Ma Clas è una di quelle persone che dove è passato ha lasciato il segno nella tifoseria e nei propri compagni. Clas, quando noi siamo arrivati, la mia prima esperienza a Bari nel 1996, era una squadra molto giovane, lui era il più anziano, il più vecchio, il più esperto che era rimasto dopo una retrocessione a voler far ritornare il pari. Mi ricordo che ci prese un po' tutti a braccetto, eravamo gli esperti anche per la categoria, perché eravamo molti esordienti, io, Flachi, Rivaio, Ventola, De Ascentis, eravamo tanti giovani. E lui fu un po' la chioccia di tutti, soprattutto in quell'annata dove sicuramente fu un'annata dove partimmo non bene, non secondo le aspettative, e lui, io mi ricordo un grandissimo annibile, ma non riesco. E allora, sì, Dodo, è ovviamente comprensibile la tua emozione, non possiamo che comprendere il tuo stato d'animo, perché ovviamente è un momento di grande tristezza per tutti noi. Diciamo che con grande esgomento è stata accolta la notizia dell'addio di Klassinghesson. Dodo, io ti chiedo se hai la forza di continuare, perché è comprensibile chiaramente il tuo stato d'animo, da parte di chi ovviamente ha condiviso tanti momenti, nel bene e nel male, con Klassinghesson, un uomo capace di trascinare i propri compagni dentro e fuori dal campo. Questo è sicuramente forse l'aspetto più importante. Io dico che Klass ha seminato tantissimo, e in questo momento anche, non essendoci più, sta raccogliendo tutto quello che ha seminato. Eh sì. Allora, non so se diamo un po' di tempo a Dodo Giorgetti, chiaramente magari lo sentiremo anche sul momento che vive il Bari, oggi reduce da una sconfitta, perché anche questo è purtroppo all'ordine del giorno, di questa puntata del canto del Gallo. Nicola Lucarelli, beh, parole emozionanti quelle di Dodo Giorgetti, ovviamente siamo a pochi giorni da un fatto molto triste per tutti noi. Tu che ricordo hai, innanzitutto, di Dodo Giorgetti, ma anche di Klassinghesson? Molti dicevano, no, questo carisma del gigante svedese, che forse traspariva in campo, ma non in maniera così importante rispetto a quello di cui realmente era capace Ingerson. Beh, come ha detto Dodo Giorgetti, che è saluto, sicuramente Klass era un trascinatore, un leader in campo e fuori dal campo. Io vorrei ricordare un piccolo episodio di Klass che mi è stato raccontato in settimana da amici comuni. Mi dicevano che Klass in pratica non era un tipo che andava in giro, non era un tipo che andava, che so, in pizzeria o nei vari locali. Lui se ne stava in casa, abitava proprio qui a Poggio Franco, con i suoi compagni di squadra, bastava una birra e lui era tranquillo, bastava parlare di calcio o di altro, lui era tranquillo così, anche con la moglie e il figlio lontani in Svezia. una persona molto molto semplice, non so se Dodo è d'accordo. No, per nuovo l'articolo, un buscariolo, veniva da un'articolo semplice, scondato dalla natura e quello ci univa. Eh sì, e allora Dodo io ovviamente non so se è il caso, insomma... No, no Dodo, ma ci mancherebbe altro, diciamo che noi ovviamente cerchiamo di parlare facendoci anche forza, perché mi rendo conto che non è facile affrontare questo tipo di argomenti in momenti così tristi e difficili, ognuno poi vive il dolore a proprio modo, la morte colpisce sempre in modo purtroppo inaspettato. Quello che però possiamo dire è che Ingeson ha lottato, ha combattuto questa sua ultima battaglia con grandissimo onore, e il fatto di averlo visto su una panchina di quella squadra, Lefborg in carrozzina, è un segno di una vitalità straordinaria, un segnale fortissimo di quello che deve essere il messaggio propositivo che deve giungere dal mondo dello sport, anche per coloro i quali si approcciano sin da piccoli, no? al calcio, un calcio purtroppo malato, un calcio che oggi ha visto una partita vinta dal Napoli al San Paolo, blindata con mille uomini, cari ascoltatori, per garantire l'ordine pubblico. Io non so se questo sia il calcio, e preferisco personalmente ricordare, ma forse viene fin troppo facile, ricordare i valori di Classing, Son Luca. Sì, è vero. Tanto, troppo distante da quello che ci troviamo a raccontare oggi, una persona, un uomo che ha lasciato un segno indelebile, ha tanti anni di distanza nell'ambiente di Bari e nei suoi ex compagni, chi lo ha vissuto, questo a testimoniare il suo valore. Noi speriamo davvero che gli insegnamenti che poi ci lasciano queste persone dal mondo del calcio non vengano cancellati rapidamente, come spesso succede, da fatti di cronaca. Ricordarci sempre che questo è un gioco fatto da uomini e fatto spesso anche da grandi uomini, come è stato Classing, Son. Dodo, io provo a farti un'ultima domanda, se sei d'accordo, altrimenti va bene così, non c'è affatto problema. Se riesco. Ok, ti chiedo anche un commento su questa partita. Oggi c'è grande tristezza, ovviamente, per quello di cui abbiamo appena parlato, ma anche per un Bari che dopo 12 giornate, insomma, dà segnali molto preoccupanti nei confronti della tifoseria. Oggi una sconfitta davvero inaspettata sul campo della Provercelli, una Provercelli che sembrava attratti il Barcellona per la capacità di tenere il campo. Bari mai in partita, forse due, tre i tiri verso la porta dell'estremo difensore piemontese. Tu hai vissuto un momento importante, se vogliamo, del Bari calcio durante gli anni 90. Quale messaggio senti di lanciare, soprattutto, non so se alla squadra, ma alla tifoseria, che oggi è in preda ad un fortissimo scoramento, come tra poco si evincerà dai messaggi che numerosi arrivano al nostro numero di WhatsApp? Ma, guarda, io oggi ho seguito la partita, sono fuori, ma ho seguito la partita con il programma che uso frequentemente e ho visto che dopo 32 minuti già era svantaggio di 2-0. Sicuramente per il Bari è stata una doccia fredda e una partita in salita. La Serie B, purtroppo, è così. L'ho vissuta anch'io a Bari quell'anno e tutti ricordiamo come quell'anno passò la storia perché al giorno di ritorno eravamo più vicini, eravamo a quattro punti. Sì, davvero un Bari sorprendente, una cavalcata straordinaria, tra l'altro proprio grazie anche all'uomo, diciamo, in campo e negli spogliatoi di Klassingerson che riuscì a spronare tutti i suoi compagni di squadra. Carlo Regalia in settimana ha raccontato un episodio molto preciso su questo, un muro contro, un faccia a faccia durissimo tra Klassingerson e lo spogliatoio alla presenza del presidente Vincenzo Matarrese. Serve anche questo e chissà che non possa servire per spronare questa squadra. Tododo, stavi raccontando la scalata del tuo Bari alla Serie A? No, sì, sì. Volevo, sì, stavo dicendo che la Serie B, un po' tutti i campionati, ma la Serie B, secondo il mio punto di vista in maniera particolare, per raggiungere l'obiettivo, raggiungere l'obiettivo può passare attraverso un percorso non sempre facile con delle sconfitte inaspettate, delle vittorie inaspettate, delle tertuosità nel percorso importanti, ma quello che conta è l'equilibrio societario, l'equilibrio della squadra, della tifuseria, che sicuramente può dare, anche nel momento difficile come può essere oggi, una spinta in più per superare il momento negativo. Ecco, questo mi sento di dire. E allora, questo è il messaggio Rodolfo Giorgetti ai nostri microfoni, non so Nicola se hai un'ultima domanda per lui, così liberiamo Giorgetti che è stato molto cortese ad intervenire quest'oggi. Sì, volevo chiedere a Dodo cosa ne pensa qui a Bari, molti tifosi stanno pensando di intitolare la curva a Classing, cosa ne pensi? Obbligatorio. Obbligatorio. Grazie mille Dodo per essere intervenuto, un caro abbraccio da tutti noi. Grazie, sempre a disposizione, un abbraccio a voi.